Anticipazioni 29 e 30 Ottobre di Una Vita Gli spoiler delle ultime puntate del mese di Ottobre di Una Vita sono molto appincenti Dal momento che diversi novi verranno al pettine L'argomento principale riguarderà, ovviamente, Lucia La giovane ha appena scoperto di essere figlia del peccato e il fatto che tutti Paesani lo sappiano non giova assolutamente a suo favore Per tale ragione, vedremo che la ragazza andrà in confusione e finirà per non fidarsi di nessuno Samuel, però, ancora una volta la farà cadere nella sua trappola Su di un altro versante, invece, vedremo che Fabiana farà un'importante rivelazione a Casilda su Maria Eginio La puntata 29 Ottobre Lucia cambia idea la puntata di Una Vita di Martedì 29 Ottobre ha spoiler molto interessanti Lucia, in questi giorni, ha smesso di fidarsi di Samuel Tale ragione si è presa un po' di tempo per riflettere Samuel, però, si renderà sempre più conto di non poter assolutamente fare a meno della Anè dei suoi soldi soprattutto Tale ragione, deciderà di fare leva, ancora una volta, sui sentimenti e sulla fragilità Dell'Alvarado e la convincerà a fidarsi nuovamente di lui Lucia, infatti, metterà da parte i rancori e i dubbi lasciando il posto al sentimento che nutre per il giovane L'Aldai, dunque, sorprenderà la sua donna con una dichiarazione d'amore inaspettata che la lascerà senza parole Spoiler mercoledì La rivelazione di Fabiana per quanto riguarda l'episodio di mercoledì 30 Ottobre di Vita, invece, gli spoiler rivelano che la tensione si sposterà altrove Nel caso specifico, assisteremo ad una confessione inaspettata che Fabiana farà a Casilda La donna, infatti, comunicherà alla sua interlocutrice di aver beccato Maria Eginio a baciarsi per i vicoli del paese Casilda, in un primo momento, deciderà di non dare peso a questi pettegolezzi, tuttavia, dopo Un po' di tempo, non riuscirà a non lasciarsi trasportare dalla cosa Per tale ragione, le due donne incominceranno ad indagare un po' più a fondo sulla questione Nel frattempo, inutili si riveleranno i tentativi di padre Telmo, di dissuadere Lucia, dal fidarsi così ciecamente di Samuel La giovane si mostrerà di nuovo completamente schierata dalla parte del suo uomo Per tale ragione, le due donne incominceranno ad indagare un po' più a fondo Per tale ragione, le due donne incominceranno ad indagare un po' più a fondo Grazie a tutti.